Il meeting di Rimini, vetrina importante per l'Emilia Romagna, che nel suo stand di 100 metri quadri, coordinato da PT Servizi e Assessorato Regionale all'Agricoltura, dal 18 al 24 agosto ha presentato in appuntamenti giornalieri le sue eccellenze. I tesori della Food Valley e della Motor Valley, la costa, la montagna e le città d'arte, fino alla Wellness Valley, le terme e il turismo slow del circuito dei 18 cammini per viandanti e pellegrini. Ogni giorno un tema diverso e degustazione di prodotti tipici aperte al pubblico. Venerdì 23 agosto il Presidente della Regione, Stefano Bonaccini, ha incontrato i giornalisti e partecipato ad un incontro sul tema Le Regioni e l'autonomia differenziata. Noi non chiediamo un euro in più di quello che lo Stato spende già oggi per alcune competenze. Abbiamo chiesto non tutte le competenze ma circa la metà perché per noi è una questione di qualità e non di quantità. Io credo che come la Costituzione dice, e la Costituzione per me è sacra, non può essere un giorno la più bella del mondo, il giorno dopo la peggiore del mondo, assegna alle Regioni a statuto ordinario da circa 20 anni, poi nessuno l'ha mai percorsa, la possibilità di gestire alcune competenze in sostituzione dello Stato. Ieri ho apprezzato molto le parole del ex Vice Premier Di Maio perché ha affermato che non vuole fermare l'autonomia ma che contestualmente bisogna indicare i cosiddetti livelli essenziali di prestazione. Prima che Emiliano Romagnolo ma credo che percorrendo la Costituzione come abbiamo fatto sia giusto che le Regioni che ne hanno, tra virgolette, ritengono di avere dei diritto possano discutere e arrivare a un accordo con lo Stato o col Governo per avere la cosiddetta autonomia differenziata. Ho sempre detto che se corre più forte l'Emilia Romagna senza togliere nulla agli altri contribuiamo a far correre più forte anche il Paese. Il Meeting è un evento che fa bene al turismo regionale. L'Osservatorio sul turismo stima che sono circa 12.000 le camere d'albergo prenotate in oltre 450 hotel della riviera e dell'entroterra e questo movimento può produrre oltre 220.000 presenze turistiche nelle strutture ricettive per un giro d'affari stimato in circa 5 milioni di euro. Complessivamente, quindi, le circa 800.000 presenze agli eventi della settimana del Meeting tra visitatori, escursionisti, turisti alloggiati, giornalisti, relatori e volontari hanno prodotto ricavi per hotel, appartamenti, bar, ristoranti, trasporti e shopping per circa 23 milioni di euro. L'Assessore regionale al turismo Andrea Corsini ha sottolineato il ruolo centrale del turismo esperienziale che combina enogastronomia ed escursionismo mentre l'Assessore regionale all'agricoltura Simona Caselli ha sottolineato il valore culturale unico della proposta emiliano-romagnola e della sua capacità d'accoglienza. In quattro anni, le presenze in Emilia-Romagna sono passate da 45 a 60 milioni. Mi pare che i numeri dicano che noi e il Veneto siamo quelli che si difendono meglio in una stagione che è stata un po' più complicata delle ultime un po' per il maltempo e un po' anche perché in questo senso io dico per fortuna ci sono paesi che rispetto a qualche anno fa hanno potuto riaprire accoglienza laddove elementi di terrorismo o di insicurezza avevano prodotto fughe di turisti da alcuni paesi del mondo. Dopodiché noi siamo molto attrezzati, guardate le proposte che abbiamo avanzato. Se negli ultimi quattro anni questa regione è passata da 45 a 60 milioni di notti dormite cioè di presenze turistiche, qualcosa vorrà dire noi siamo fiduciosi che l'Emilia-Romagna possa avere il turismo come uno, anzi indicammo quattro anni fa quando scrivemo la nuova legge regionale, il turismo tra le tre gambe insieme alle manifatture in cui spesso abbiamo distretti i campioni del mondo e insieme alla cultura e ai saperi perché qui si deve puntare sulla qualità e non sulla quantità per eccellere e competere con i territori più avanzati del mondo, il turismo come una delle tre gambe per una nuova crescita sostenibile. Il turismo, ho sempre detto, è il petrolio del nostro futuro ma come fonte di energia rinnovabile, non fossile. Il comparto turistico dell'Emilia-Romagna contribuiva poco più dell'8% quando sono diventato presidente all'intero PIL regionale e oggi vola verso il 12%. È una cosa rilevantissima, dopo l'Expo di Milano, Food Valley, Wellness Valley e Motor Valley sono diventati brand che accompagnano addirittura le manifatture a diventare prodotto turistico nel mondo con le destinazioni turistiche a partire da quella della Romagna, una delle più forti possibili abbiamo dato una svolta anche in termini di attrattività ripeto, noi continuiamo ad essere fiduciosi sapendo che in un mondo globalizzato e così competitivo guai a sedersi e a pensare di averle vinte tutte. Adesso abbiamo tre grandi occasioni 2020 Parma, capitale della cultura italiana e arriveranno milioni di turisti a tutto il mondo noi dobbiamo distribuirli sull'intero territorio regionale e lo si fa mettendo in campo le tantissime eccellenze per un nuovo turismo che vuole vedere più cose possibili nel minor tempo possibile non ha paura a spostarsi due, i cento anni della nascita di Federico Fellini il regista italiano più conosciuto e amato nel mondo 2021, i settecento anni della scomparsa di Dante Alighieri il poeta più studiato, più letto, più amato nel mondo che nell'asse Firenze-Ravenna potrebbe far diventare un'altra grande opportunità di valorizzazione della cultura, dei paesaggi, dei territori abbiamo queste tre grandi occasioni nei prossimi due anni insieme a tante altre cose che a partire dal MotoGP di Misano Adriatico tra poche settimane fanno conoscere questa terra nel mondo insomma che l'anno scorso l'Only Planet abbia scelto l'Emilia-Romagna come Best Destination in Europe per il 2018 e per i turisti che in tutto il mondo credo la dica lunga sulle qualità che questa regione ha messo in campo a partire dal mondo